Maresciallo ma secondo voi è giusto che facciano tutte queste barzellette sui carabinieri? Guarda ma noi a malincuore un po' hanno ragione perché ci stanno i carabinieri fessacchiotto sono una minoranza perché la maggior parte siamo uomini seri, uomini coraggiosi, uomini di un pezzo i carabinieri come me sono carabinieri che stacce Maresciallo hanno bussato? Non ti muovere vai qui, anzi non ti arretto è meglio che li facciamo aspettare, la stessa non è da orezzo e poi ci stanno i carabinieri fessacchiotto come guagliarù vuoi vedere ti do una dimostrazione proprio pratica lambante quanto è fesso guagliarù Va bene va bene Guagliarulo! Comandi maresciallo Guagliarù Comandi Mi raccomando velocemente in un lampo Si Vai a casa mia Si E vai a vedere se ci sono Va bene vado vettor Hai visto? Prova lambante quanto è cretino guagliarù Per vedere se ci sono a definire la casa Eh? Non può fare una telefonata Grazie Grazie Grazie